Buongiorno a tutti! Buongiorno! Come andiamo? Oggi, domenica di marzo, questo video è un video speciale per tutta l'Italia, vero? Per tutti gli italiani! Per i genitori di Ema e tutta la sua famiglia! Allora, tratteremo di parlare in italiano, cosa molto difficile per me! Il nonno è bravo a parlare italiano! Cosa va a dire lui? Come ti sente? Bene, grazie! Oggi è tutto bene, il mare è tranquillo! Speriamo in una buona pescata! Dai tranquillità ai tuoi genitori che come ti trovi qua a questo meraviglioso balneario di Piliapoli! Benissimo! Non voglio più tornare indietro! No! Per tutti quelli italiani che vogliono pescare con il Juani Giotuvero! Che si arriva a Piliapoli a Piliapoli a Uruguay a Sudamérica con il peliero Don Quijote! Guarda! Lassiamo il porto! Prende il timone il capitano! Vai! Vai! Direitto! Il capitano Ema! Il porto di Piliapoli! Bellissimo! Noi navigiamo Il porto di Piliapoli a questa acqua perché c'è una grande valla! Si! Si è vero! E il porto di Piliapoli! Il porto di Piliapoli è un porto che si chiama in italiano non lo sai! No, come è detto prima! Il porto di Piliapoli è un porto che si chiama in Italia da Uruguay! Il porto di Piliapoli e questa acqua è del fiume della Plata, il rio della Plata e bagna tutte le piaglie di questo porto di Piliapoli! Allora, noi andiamo a pescare con l'Ema! Vediamo! Ci puoi mostrare a tutta l'Italia quelli che guardano questo video? Uno o due? No, adesso andiamo anche tra quattro! Quattro? Ok! Bravo! Bravo! Ascolta, guarda più avanti perché se no andiamo alle rocce! Sì, sì! Un po' a destra dai! Un po' a destra! Guarda il lobo! Il lupo marino! Guarda! Sempre vicino ai Juani! Perché? Perché sa che il Juani pesca! Allora, lui, il lupo vuole rubare tutto il pece che io pesco! Anche pescarà oggi è l'Ema! E la ultima volta hai pescato tu! Sì! Cosa hai pescato? Ricordi? Il congrio! Un congrio! Una víbora! No, è un congrio! Un pesce che c'è un dente più fino, si dice! Sì! Sì, più fino! E devi avere molta cura di che non ti prenda il dito! Allora, guarda! Allora, guarda! Sì, qui abitano moltissimi italiani, quello che vanno in pensione, arrivano qua per vivere perché è molto tranquillo, sempre che non si trovano nel Juani, si trovano nel Juani, non è tranquillo niente! Ok, andiamo al luogo, al posto dove il Juani sempre pesca e lo transmitiremo per voi, per tutti, principalmente per la famiglia dell'Emanuele. A Trento, bellissima città, dove ho lavorato, avevo lavorato tempo fa, tempo fa, ok, ci vediamo! Ciao! Parla poco tu, eh? Sì, sì! Sai parlare in italiano, tu? Sì! No, non lo so, non parlate niente, tutto io! Bom, capitano! Juani, per tutta l'Italia, piccolino! Ma è molto mozzo il mare oggi, piccolino! Vediamo cosa è! Molto mozzo! Uh, super piccolino! Guarda! Questa è la corvina? No, non c'è, roncadera! Questo qui si chiama roncadera, buttiamo via! Devoluzione! Ascolta! Abbiamo un amo di pesca sopra il peso e altro amo di casa sotto il peso. E qui mettiamo lo che noi chiamiamo carnada, perché il pesce possa mangiare e possiamo pescare. E tu, Emma, come stai? Bene, grazie! Viene qualcosa? No, ancora non è. No! Forse dobbiamo fare un cambio del posto, perché non abbiamo molto situazioni di pesca. Bene, Juani! Ha stato benissimo! Vai avanti! Vai! Quello di prima! Quello di prima! Piccolino! Sì, è lo stesso, no? Sì, è lo stesso! Roncadera! Sempre più fame! Bellissimo! Uno per uno! Vuoi mangiarlo? Si può mangiare questo? Sì, certo! Certo, è lo stesso che io ti ho dato l'altro giorno! Più piccolino! Sì, va bene! Ok! Ah, non lo sapevo, io l'ho buttato via! Ah, è lo stesso, io mangio tutto! Sì, ok! Ok! Sono molto piccolino! Ma dobbiamo aspettare un po', anche voi dovete aspettare e guardare tutto il video! Dove lo metti, nonno? Qua! Altro! Porta lui! Che fortuna! Forse, non so, sembra di sì! Sì o no? Non so, sembra di sì! Però è piccolo anche! Piccolo anche! È andato! È andato! Santa Madonna! Mamma mia! Lui pesca con la matadora! Il rio del Juani! Il capitano ha deciso di alzare l'ancora e cambiare di posto! Cercheremo di pescare in altro luogo! Arriva! Tutto bene, Manuel? Tutto bene, grazie! Ok, tranquillo i genitori! E' in buone mani! In buone mani! Ancora! Guanni! Ema! Devo giotibero! Devo giotibero! Piccolina però... Elema la mangiarà! Ah, sì! Viene! Arriva! Piccolina! Ecco, va che bello! È piccolina! come lui la mangia la lascio è uguale questo no? è uguale sono piccolina roncadera roncadera me fastidia perché mangia tutti la carnada la carnada come si dice? è l'esca arriva altra piccola mamma mia il pelle grande che io volevo mostrare a tutti non c'è oggi almeno fino a ora guarda la estrella ha mangiato sopra e sotto la frittata ce l'hai la frittata ce l'hai Alema bravo no prego sono contento sono contento guarda questo è la moda io metto così un piccolino pesce che ieri alla notte si ha pescato alla incandilata con luce come si chiama il calderino? c'è uno no no si viene uno dell'Ema attenzione grande? non lo so sembra piccolo anche questo si mamma mia terrore suspenso no 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 quello che sono i seguitori del Juani? con questo? con questo niente va no via eh Juani questa è meglio no sé lo che è è un po' un po' meglio non 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 se è un po' medio cuesta vediamo cosa è io pensavo andare via Guarda che bella! Guarda che bella! Alla fine! Questa se la mangiarà in una grigliata! Bellissima! Guarda questo è il nostro toilette per fare la pipì! Per fare altra cosa questo! Sì perché abbiamo bisogno forse! Buon! Con tutti! Ora abbiamo finito per oggi la pesca! Povera pesca! Povera! Povera! Ma Emma mangerà il pesce! Io sono contento lo stesso! Come ti hai sentito? Molto bene! Devo dire sì sì! Meglio del solito! Ok! Oggi sono pesci buoni per fortuna! Pesci fresco! Oggi è un giorno qua di molto caldo! 35 gradi! Ascolta! Devi venire a fare una visita a Piriapoli e ti troverai con il Juani giuero! Allora facciamo una toma si dice? Toma? Sì una... Come si dice? Una... Un ritrovo? Un ritrovo! No! Ritrovo no! Un video! Guarda! Il capitano Emma! Saluti a tutti la famiglia! Ciao a tutti! Grazie per averci guardato! Se devi dire iscriviti e fare clicca nella campanita a tutti! Iscrivetevi al canale e accendete le notifiche per il video del nonno! Del nonno pazzo a Piriapoli! Il nonno pazzo! Quanta ragione hai lui! Arriva gente linda! Arriva su gente bella! Cari amici italiani! Sarà la prossima! Pesca con un lema! Ciao a tutti e grazie! Ciao a tutti! Ciao a tutti!